Ha lanciato anche una petizione online alla quale hanno già aderito 2300 persone, ha interessato anche i media nazionali e diverse testate giornalistiche come Avvenire, Famiglia Cristiana e Radio Maria e prima ancora ha scritto a Papa Francesco una lettera per chiedere di ripristinare nel rituale della Messa la preghiera al principe delle milizie celesti, San Michele Arcangelo E' Davide Brunetti, 28 anni, residente a Torre San Marco, piccolo e caratteristico borgo arroccato sulle colline nel comune di Fratterosa, l'antica Castrum Fractarum, oggi poche centinaia di anime che vivono tra quiete e natura. San Michele Arcangelo è anche il protettore della parrocchia ed allora Davide, appassionato di religione cattolica ed osservatore attento dei mutamenti della chiesa e della società e per alcuni violenti fatti attuali, alcuni dei quali anche profeticamente anticipati dai testi e dalle parole di religiosi del passato, ha interpretato il volere di alcuni suoi concittadini ed è passato ai fatti, aiutato anche da alcune persone vicine al mondo ecclesiale e ha scritto fiducioso al sommo pontefice ma al momento non ha ricevuto alcuna risposta ma attende fiducioso che la sua preghiera venga accolta. All'inizio degli anni e sessanta è stata tolta dal rituale, non riesco a capire proprio il perché. Alla fine della messa di ringraziamento si riprende da uno stato simile alla trans e il Papa dice di aver assistito a un colloquio tra il nostro Signore e Satana. Satana dice al Padre Eterno mi fai tentare di distruggere la tua chiesa? La tenterai ma non la distruggerai e il Papa quando si è ripreso ne è rimasto talmente colpito che ha deciso di scrivere questa preghiera qua. Quattro anni fa ho scritto e dopo sai scrivono talmente in tanti che a rispondere a tutti è molto molto difficile. Comunque invito tutti a recitarla perché serve, serve molto. Grazie a tutti. Grazie a tutti.